Prima erano tutti sempre con il dito puntato a cercare il colpevole. Ma ora, con il nuovo Nito Bat Bat Connected, io e la gatta andiamo più d'accordo. Perché non dobbiamo preoccuparci di che finirà nei guai. Ci ha tolto davvero un grosso pensiero. Davvero? Penso che il cane sia d'accordo. Ah, certo. E anche tu sembri più felice. Adesso mi sento veramente me stessa. Posso esprimermi senza dovermi preoccupare di dover affrontare le conseguenze. Con Nito si possono collegare da qualsiasi posto. Un vassoio di pasticcini non mi dà più l'ansia. Perché poi tornano in una casa pulita, quindi solo coccole. Nito! Zitto, pappagallo! Già, zitto, pappagallo! L'ho appena detto io, cane. È pazzesco come questo robottino elimini completamente tutto il pello del cane. Quello rotondo che avevamo prima non riusciva a pulire negli angoli, ma Nito con la sua forma di non ha problemi. Già, il laser di Nito mappa l'intera casa e il giro ovunque, aspirando fino all'ultimo granello di polvere con una forza aspirante incredibile. Quindi, quando mangiucchio scarpe, strappo rotoli di carta o mastico la lettiera della gatta... Tu mangi la mia lettiera. Non ci posso credere. Ci consideriamo abbastanza addomesticati, ma ci sono certi istinti che non saremmo mai in grado di frenare. Esatto. Nito! Ho detto zitto, pappagallo!